A distanza di 10 anni il Comune di Salerno fa un tagliando al piano di raccolta differenziata. La città che si era distinta a livello nazionale per la percentuale di riciclo, nel corso del tempo ha registrato un calo di attenzione ed un contestuale aumento delle microdiscariche e del degrado. Le novità sono state illustrate in una conferenza stampa al Comune. Finalmente l'avvio del piano di comunicazione per la raccolta del vetro porta a porta e per l'eliminazione delle campane del vetro dalle strade della città di Salerno, che abbiamo più volte detto diventano delle vere e proprie microdiscariche. Sarà l'occasione in questo piano di comunicazione di avviare una nuova campagna di sensibilizzazione. Rimetterci in gioco anche noi stessi perché bisogna rifare una capillare campagna di comunicazione per aumentare non solo quantitativamente i rifiuti di imballaggio, che quelli a cui garantiscono il riciclo e i sette consorsi di filiera, ma anche qualitativamente. Ma lo sguardo è rivolto anche al futuro. Con i fondi del piano di ripresa e resilienza si lavora per ammodernare l'impianto di compostaggio di Salerno con la produzione di biometano e per realizzare un'isola ecologica intelligente nei rioni collinari. Il compito però dell'amministrazione è quello di non sprecare energie, ma soprattutto di non sprecare occasioni come quelle del PNRR. Quindi in questa direzione noi ci muoviamo per fare in modo che la città possa avere impianti innovativi, possa avere un ciclo virtuoso e perché no, possa primeggiare come un tempo nell'ambito di questo settore.